Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare le prove del mare apprendista timoniere. Parla con i rappresentanti dell'alleanza del mercante e dai un'occhiata alle loro casse di merci e acquista una cassa di risorse qualsiasi da un rappresentante dell'alleanza del mercante. Ora, se siete nuovi magari non sapete come fare, se siete giocatori veterani è una serie di prove molto semplice. Tutto quello che dovete fare è andare sul molo dove c'è la tizia dell'alleanza del mercante. Quindi parlate con lei e dopo aver parlato con lei andate su scopri offerte risorse e merci, scopri risorse e merci e poi acquistate una qualsiasi cassa con le monete. In questo modo sbloccherete entrambe le prove, quindi avrete completato sia quella di parlare con il mercante sia quella di vedere le merci e acquistarle. Quindi non dovete far altro che parlare, andare qui, scoprire le risorse e merci e acquistare una di queste casse.